bene ragazzi benvenuti in questo nuovo e magico video oggi siamo al giorno dopo il Mugello e ragazzi ieri ho fatto una storia su instagram per chiedere chi voleva venire a girare oggi e bene sì mi hanno risposto questi due ragazzi che vedete davanti a me un ragazzo quello più avanti ha il panigale v4 cioè non so se mi sono spiegato panigale v4 mentre il ragazzo davanti a me ha una z750 tutta personalizzata e veramente carina e ovviamente dietro di me c'è quel suicida di belle che ragazzi se voi volete un pilota per il vostro team chiamate il luca belle ora siamo sul passo del muraglione ad inseguire un magico panigale ragazzi godetevi lo spettacolo ma io mi chiedo perché le macchine vengono a fare il passo del muraglione dai su ma non vi annoiate a stare tutti in fila uno con l'altro andare tutte a nemmeno 50 all'ora dai ragazzi miei dai certo che si vede quando giri con le persone del posto che loro sa la strada mamma guarda come si gira su se stessa guarda che in seguimento tutto a sinistra per poi girare tutto a destra mamma da togliere il fiato mamma ragazzi ti toglie proprio il fiato un po' un po' un po' un po' un po' un po' mamma mia che salita ragazzi che pennellamento ed è il muraglione per ora è tutto ci vediamo dopo all'inseguimento delle super sportive giù dai tornanti del muraglione ragazzi motociclismo champagne olé 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 il tornante non lo riesco a fare nemmeno qua il bello che tu arrivi c'è la curva e dici no chiude ancora poi c'è un po' di terriccio per terra oh sorpasso meno male che non apre se no altro che sorpassare qua mannaggia senza sapere la strada è difficile inseguire chi sa la strada che brutte parole che sto usando ragazzi mamma sei un suicida belle ebbene sì ragazzi dopo aver fatto un po' di benza alla magica z perché ne necessitava abbiamo scoperto che abbiamo anche sbagliato strada quindi quindi per cui ora si torna un pochino indietro non che la cosa ci dispiace tanto noi guardiamo quel magico puletto di questo panigale v4 e ragazzi andiamo verso marradi che poi decidremo se fare o il passo colla o il passo sambuca chi lo sa vedremo come ci andrà ma mettiamo un po' in slow motion sto panigale ragazzi la strada che va per marradi non è una strada molto carina come potete vedere per fare piego andare veloce però guardate che paesaggio è proprio una strada di piacere oh si ragazzi siamo sul passo colla ma che pinzatona come si sporge come si sporge ma la z è pronta lo vuole assaporare ma non vuole assaporare gli imitatori oh che bello che sei animale morto povero mamma quanto è eccitante questa panigale mamma ragazzi panigale e champagne proprio io mi sto immaginando il mio baulettino dietro in che situazione possa essere eh ragazzi sullo stretto abbiamo un po' più di vantaggio del panigale ci segnala che qua la strada non è un granché eh in effetti la riga nera è proprio sulla traiettoria ideale ragazzi si si sente che è sulla traiettoria ideale stiamo inseguendo il pilota del chief chief moto gp super bike super stock il signor luca belle che le gente narrano che se tu gratti dove non gratta lui vuol dire che stai per morire a lui la vita fa schifo ragazzi lui non ne vuole sapere li vuole solo grattare non importa se su brecciolino, su bagnato, sull'asciutto in pista, in strada lui deve grattare ovunque che scambi ragazzi che esse guarda a destra subito giù a sinistra super cambio di direzione qua è un continuo è solo tecnica è solo solo tecnica ragazzi un passo da prima marcia e a volte appoggi di seconda ma sicuramente non in curva e mi sa che siamo arrivati in cima ragazzi mi sa proprio di sì esatto mamma ragazzi cioè il passo colla è un nome e una garanzia colla perché? perché ti puoi dire che ti rimane attaccato puoi dire che l'asfalto è una colla ne puoi dire tante ma talmente tante che è una cosa allucinante questo passo ragazzi è molto tecnico è un passo da fiatone direi però ragazzi ti dà di quelle soddisfazioni che voi non capite c'è anche la discesa che ora la sto facendo piano per riuscire a parlare meglio perché sennò non hai fiato e poi le gambe ragazzi urca le gambe le gambe ne le sentono tantissimo e ora ragazzi visto che siamo praticamente alla fine del passo colla ci fermeremo a Borgo San Lorenzo a fare la pappa oh sì ragazzi quindi ci vedremo diretti dopo la pappa ebbene sì ragazzi adesso siamo in direzione passo del gioco dopo aver fatto un piccolo pranzettino e ragazzi il paesaggio toscano è uno spettacolo comunque Belle ha detto no ma dopo gli spaghetti alle vongole vado voglia di grattare vado piano sì sì voglio proprio vedere brutto sumero che sei Belle ole ole guarda che trio è bello che hanno tutti e due la pinza radiale io quando freno i miei freni fanno ah dobbiamo frenare ma ne sei sicuro e anche il passo del gioco è fatto io voglio scalare ma sono già in prima non è vero che non cambio mai ragazzi è che nelle clip sembrano sempre con la stessa marcia ma ma guarda il sorpasso uno non può neanche fare l'infame sorpassare subito eh scala prima oh no la merda no ma perché facciamo passare quel macellaio di Belle eccolo ah se vogliono rilassare e anche il gioco è fatto con gusto reiniziano le curve giustamente ho una panda davanti andiamo a riprendere quei due lemuri guarda guarda che roba questo è uno dei pezzi paesaggisticamente più belli ragazzi mamma che spettacolo guarda solo questa discesa quanto è bella e quanto suona la Z mamma mia guardano il suicida non gli interessa nulla povero Belle ma non la sento ma smera è anche raticosa è fatto ora prendiamo qualcosa per la piccola Auli e poi torniamo verso casa ebbene sì ragazzi dopo aver fatto una piccola sosta in cima a Raticosa per prendere una magica acquetta iniziamo il nostro ritorno verso casa ma non facendo tutta l'autostrada come era andata bensì arrivando a Bologna tramite questa strada che non mi ricordo scusate se sbaglio se è il Futa o il Raticosa che continua fino a Bologna e poi da lì ovviamente prenderemo l'autostrada perché non ha senso andare dritti in snotale almeno possiamo andare un po' più veloci il bello di questa strada ragazzi che per arrivare fino a Bologna non c'è nemmeno un rettilineo sono tutte curve eccolo c'è Belle davanti lo vuole? oh sì Belle suicida ti voglio così no il Pullman buongiorno sei proprio un molestatore di locuste Belle mamma ragazzi che strada mamma mia ti lascia proprio senza fiato è un continuo beh ragazzi che dire con questa vista non mi resta di concludere qui il magico video di oggi in compagnia di Belle il signor Pizza con la panigale e l'altro ragazzo che purtroppo scusami ma non mi ricordo il nome adesso con la Z e che dire ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate sempre un bel like commentate con quello che vi è piaciuto di più e che dire ragazzi ci vediamo come sempre ogni domenica alle 15 per un nuovo video ciao ciao